Ma più vasti orizzonti si aprono alle nuove generazioni somale per opera dell'Italia guida e amica. Nelle città e nei villaggi, nei centri più lontani, cento e cento scuole sono sorte. Insegnanti italiani e somali sono anche qui affiancati nella loro nobile missione. Qui veramente si tratta di porre le basi. Anche questa è una terra vergine che attendeva da millenni l'opera del modificatore. Alle scuole elementari, nei centri maggiori, a Mogadiscio e a Chisimaio, si aggiungono scuole professionali e corsi per specializzati. Il minareto di Mogadiscio segna sulla sua meridiana una storica ora nella vita del popolo somalo sotto l'amministrazione fiduciaria che le Nazioni Unite hanno affidato all'Italia. Nel consiglio territoriale della Somalia i rappresentanti dei partiti somali prendono diretta parte alla vita amministrativa del loro paese. Viene chiamata semplicemente Hamar, la città, la città per eccellenza. Su questo angolo è il caffè che fu il ritrovo degli antichi colonizzatori dove un tempo anche lo stesso governatore sedeva ad ascoltare suppliche e a rendere giustizia. Di fronte ad esso il bianco minareto della moschea di Arbarukun si erge come lago di una gigantesca meridiana a segnare le ore buone e cattive.